In occasione del 43esimo congresso nazionale dell'AMCO, dell'Associazione Nazionale dei Medici Cardiologi e Ospedalieri, l'Osservatorio Epidemiologico Cardiovascolare, frutto della collaborazione tra l'Istituto Superiore di Sanità, la stessa AMCO e la Fondazione per il tuo cuore, ha presentato la fotografia dello stato di salute del cuore degli italiani. Ne parliamo con il dottor Marino Scherillo, presidente dell'AMCO. Allora dottor Scherillo, cosa emerge da questa fotografia che avete scattato al cuore degli italiani? È un prezioso progetto fatto dall'Associazione Nazionale dei Medici Cardiologi e Ospedalieri con l'Istituto Superiore di Sanità. È un'occasione per fare la fotografia dello stato di salute degli italiani, misurando in 21 centri un campione rappresentativo di ogni popolazione regionale. Abbiamo dati antropometrici, peso e altezza, abbiamo dati in relazione alla pressione arteriosa, alla frequenza cardiaca, all'elettrocardiogramma. Era previsto in tutti i cittadini che erano stati invitati a partecipare a questa indagine epidemiologica, era previsto anche un prelievo ematico con il dosaggio di colesterolo trigliceridi. Veniva peraltro identificata la percentuale dei pazienti diabetici. Allora questa indagine è stata fatta, ripeto, un'indagine analoga fatta dieci anni fa. Allora le chiedere le differenze tra dieci anni fa e adesso. Com'era il cuore dieci anni fa degli italiani? Abbiamo avuto l'occasione di paragonare lo stato di salute cardiovascolare degli italiani all'inizio dei ruggenti anni 2000 e alla fine dei ruggenti anni 2000. Abbiamo verificato questo, che è in aumento la triade pericolosa DOC, diabete, obesità, colesterolo alto. Rispetto a dieci anni fa gli italiani hanno una maggiore prevalenza di diabete e quindi di obesità e quindi di colesterolo alto superiore a 240 mg per decilitro. In particolare le regioni che hanno una maggiore prevalenza di diabete e obesità sono le regioni del sud rispetto alle regioni del nord. In queste stesse regioni, quelle del sud, comprese le isole, quindi la Sicilia e la Sardegna, vi è una prevalenza di inattività maggiore rispetto ad altre regioni della nostra penisola. È un aspetto sulle quali dobbiamo riflettere per provare ad essere efficaci nel promuovere lo stile di vita salva cuore. Ancora abbiamo notato che la prevalenza di ipertensioni arteriose è rimasta stabile in questi dieci anni. Abbiamo però osservato che ha aumentato il numero di cittadini italiani ipertesi che praticano un trattamento farmacologico appropriato. L'informazione per i cittadini quindi è in grado di garantire un'aderenza alle terapie farmacologiche che possono ridurre i livelli di pressione arteriosa. Un altro aspetto che abbiamo sottolineato nella conferenza che abbiamo tenuto con il professor Garaci, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, che ci ha dato il piacere e l'onore di essere presente con noi a questa conferenza stampa, è che i maschi italiani fumano di meno rispetto a dieci anni fa, non così per le donne. Un altro dato interessante è che l'istruzione salva, l'istruzione riduce la prevalenza dei fattori di rischio nel senso che i cittadini italiani che hanno una scolarità superiore, nel senso della licenza media o la laurea, hanno una minore prevalenza dei fattori di rischio rispetto invece a cittadini italiani che hanno una scolarità più bassa. Peraltro è anche in relazione la prevalenza dei fattori di rischio con i livelli svantaggiati socio-economici. Dove esiste un tessuto socio-economico più svantaggiato, anche qui vi è una prevalenza dei fattori di rischio. Toscherillo, tre consigli per gli italiani? Mangiare di meno e muoversi di più. Avere in mente che la dieta mediterranea è quella che è certificata come valore per l'umanità per ridurre la prevalenza della cardiopatia ischemica cronica che è spesso indotta da una mancata attenzione e mancata correzione dei fattori di rischio cardiovascolare. Avere in mente che la dieta mediterranea è quella che è scoperta come valore per l'umanità di rischio. Avere in mente che la dieta mediterranea è quella che è scoperta come valore per l'umanità di rischio. Avere in mente che la dieta mediterranea è quella che è scoperta come valore per l'umanità di rischio.